Il 2020 ci lascia in eredità una spiacevole abitudine, quell'angosciante vivere quotidiano scandito dai bollettini giornalieri forniti da Gores e Servizio Sanitario Regionale. Da 11 mesi, ogni giorno, le marche sono alle prese con i numeri dei contagi e sono alle prese con l'analisi della loro crescita o decrescita. Da febbraio si è costretti a maneggiare numero di tamponi, tipologia di tamponi, da nuove diagnosi a percorso guariti, fino ai più recenti test antigenici. Una sequenza di dati che presto ha cominciato ad allargarsi a numero di ricoveri, terapie intensive, pressione sugli ospedali e purtroppo i decessi. Le marche, al termine di questo tremendo 2020, hanno infatti pianto 1.570 morti. Il fardello più pesante è per la provincia di Pesaro Urbino, che ha superato i 660 decessi di persone contagiate da Covid-19. In totale, nelle marche da inizio pandemia, sono risultate positive al coronavirus 40.000 persone su circa 310.000 tamponi effettuati su casi unici diagnosticati da inizio pandemia. 520.000 invece tamponi processati, considerando anche quelli ripetuti sulle stesse persone. Una pandemia nelle marche che ha avuto picchi primaverili, discese estive e nuove risalite in autunno. È infatti del 13 novembre la più alta impennata di contagi da Covid-19 con 779 nuovi casi positivi in un solo giorno. È invece fresca di una settimana la giornata con più tamponi processati. Il 23 dicembre ne sono stati effettuati ben 5.062 nel percorso nuove diagnosi.